Ci sono 11 gare d'appalto bandite dall'amministrazione comunale di Cerignola tra il 2015 e il 2018 nel mirino della commissione d'accesso agli atti nominata dal prefetto di Foggia su delega del ministro dell'interno Mattio Salvini, insediatasi nei giorni scorsi per verificare la sussistenza di forme di condizionamento mafiose. Analoga commissione sta operando anche nel comune di Manfredonia. Sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti ci sarebbero soprattutto le aziende che si occupano di gestione dei rifiuti relativamente ad assunzioni sospette di persone ritenute vicine a famiglie malavitose locali. A Cerignola la commissione è al lavoro su atti di giunta, determini dirigenziali, concessioni edilizie non lasciando nulla al caso, riflettori puntati anche sulle ordinanze urgenti come quelle rilasciate nel periodo in cui la città stava affrontando l'emergenza rifiuti dovuta alla crisi della società SIA. Il sindaco Metta continua ad avere piena fiducia sull'operato della sua amministrazione, al punto da inaugurare una striscia social sulla sua pagina Facebook composta da 11 puntate, in ognuna delle quali analizzerà le presunte anomalie riscontrate nelle gare d'appalto finite nel mirino della commissione. Non ho nulla da nascondere, dice il primo cittadino, non esistono gare viziate da irregolarità.